Vetrate scorrevoli elettriche. Ciao sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973. Ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema Bisacchi. Le vetrate scorrevoli elettriche sono in realtà le vetrate scorrevoli motorizzate. Sono vetrate scorrevoli come quelle manuali ma solitamente molto pesanti, tanto da diventare quasi obbligatorio l'adozione di un motore per poter movimentare. Uno per questione di comfort, due per questione di sicurezza. La questione di comfort vuol dire avere la possibilità magari con un pulsante o col proprio telefono, col proprio smartphone, o di dire Alessia aprimi la finestra del soggiorno, Alessia chiudemi la casa e a fare in modo che tutte le vetrate scorrevoli si aprono e si chiudono. A livello di sicurezza perché queste vetrate quando iniziano a pesare 4-500 kg ogni vetro, una volta che inizio a spostarle, che ho vinto l'attrito iniziale, che all'inizio è un pochettino dura, l'inerzia iniziale, poi quando prendono il via scorrono veramente veloci e non si fermano. Cioè che io appena smetto di spingere loro si fermano. Hanno un'inerzia che prosegue. Se dalla parte di là magari c'è un bambino, il rischio di un infortunio e anche grave è notevole. Quindi in quel caso lì una vetrata scorrevole motorizzata, quindi elettrica, è consigliabile. Ne esistono di diversi tipi, esistono dei motori che vengono applicati nel secondo tempo, esistono dei sistemi integrati che nascono già per poter essere motorizzati, esistono dei sistemi con delle sicurezze che ci parte da SK1, SK2, SK3, SK4, che cambia in funzione al tipo di involucro di abitazione che sto trattando, al posizionamento della vetrata, di quante persone ci sono dentro. Ecco, per fare queste vetrate molto complesse e molto costose, è consigliabile, è preferibile parlare con qualcuno che se ne intende, avere appunto un consulente che ti guidi nella scelta migliore. Il problema è che spesso questo consulente è quello che ti deve vendere le vetrate e quindi c'è un evidente conflitto di interessi. Proprio per questo motivo ho creato un servizio di consulenza con Stia Misaki, dove chiedendo la consulenza potrai praticamente avere tutte le risposte che cerchi senza nessun conflitto di interessi, perché questo servizio l'ho destinato a tutte quelle persone che non posso aiutare direttamente, magari perché è lontana dalla Misaki, magari perché abbiamo troppo carico di lavoro e lo faccio attraverso 4 ore ogni settimana a sabato pomeriggio, che ho dedicato a questo servizio. Se vuoi sapere di più vai su www.blogguisaki.it e affrettati perché i posti sono limitati. Ciao e al prossimo video! Ciao e al prossimo video!